Nelle mercoledì in cui Valle Foglia e Monte Labate sono tornati in zona gialla, spuntano sette nuovi comuni marchigiani che entrano nell'osservatorio regionale che li mette a rischio di zona arancione rinforzata dopo essere risultati avere una incidenza superiore ai parametri dei 250 nuovi casi su 100.000 abitanti. Si tratta di Acqualagna, Petriano e Fossombrone nella provincia pesarese, Montappone nel Fermano, Folignano, Acquaviva Picena e Castel di Lama nella provincia di Ascoli Piceno. Mentre tre comuni uscivano dalla zona arancione rafforzata ci sono dei comuni che entrano nell'osservatorio per la prossima settimana che speriamo che siano dei casi singoli isolati, quelli che si sono verificati altrimenti altri rischiano di andare nella zona arancione rafforzata. Noi dobbiamo essere attenti perché come avete visto siamo passati da 160 terapie intensive a 70. In due settimane e mezza c'è stato un dimezzamento delle terapie intensive ma poi nelle due settimane successive non riusciamo a scendere sotto i 70, siamo a 69. Che cosa significa? Significa che ancora c'è un livello di occupazione delle terapie intensive che è elevato intorno al 30 per cento. Questo non ci può rendere tranquilli. Intanto nelle marche sono arrivate oggi 52.000 dosi di vaccino Pfizer. Acquaroli ha ringraziato l'attenzione del generale Figliuolo per una boccata d'ossigeno che consente di rimettere a pieni giri la macchina di somministrazioni regionali e pensare di aprire nel giro di pochi giorni le prenotazioni alle fasce d'età comprese tra i 60 e i 64 anni. Questo significa che con queste dosi intanto abbiamo un grande respiro di sollievo. Considerate che noi anche oggi siamo primi in Italia quindi significa che noi abbiamo una capacità di vaccinazione molto 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 elevata e quindi è chiaro che con una capacità di vaccinazione molto elevata consumiamo molto velocemente le nostre dosi percentualmente la dimensione della nostra regione. Questo serve anche a dire un altro elemento molto importante che avendo una capacità di vaccinazione molto elevata abbiamo una richiesta di vaccini che è molto elevata.